Un modo efficace per avere un prodotto affidabile e di buona qualità può essere quello di assemblarlo usando i componenti che nel tempo si sono rivelati essere migliori. Assembrare delle cuffie auricolari di buona qualità usando le parti migliori di altre vecchie cuffie potrebbe esserne la prova. A parte risumare il cavo e gli altoparlanti migliori finiti chissà dove, l'assemblaggio richiederà qualche saldatura, un po' di colla e qualche guaina, ma ne varrà la pena per avere delle cuffie perfettamente rispondenti alle proprie necessità, di certo migliori di quelle vendute a pochi euro, soprattutto se si ha a disposizione un cavo bello resistente lungo il necessario e degli altoparlanti ben fatti, tipo quelli con i quali molti produttori equipaggiano i cellulari non ancora smart anche se con attacchi improbabili e proprietari. In sostanza per un ascolto di qualità quello che serve è solo un buon ecoblaggio e dei buoni altoparlanti, tutto tranquillamente reperibile nella montagna di rifiuti elettronici presenti ovunque. D'altronde, seppur nelle cuffie wireless il costo maggiore è nel sistema di trasmissione, esso mai ugualirà un cavo. Naturalmente ciò vale anche per una semplice riparazione, magari sostituendo la parte danneggiata con una di qualità superiore, prelevata da qualche rifiuto elettronico. Se non si conosce a priori la qualità dei componenti, meglio scegliere quelli di dimensioni maggiori, rimanendo nel limite della propria ergonomia. Declino ogni responsabilità per eventuali danni a persone, animali e cose eventualmente occorsi a chi volesse iniettare la procedura illustrata nel video che ha scopo di puro intrattenimento. Aspetto i vostri commenti, i mi piace e le iscrizioni al canale. A presto. Grazie per la visione. Ciao. Grazie per la visione. 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 Grazie a tutti. Grazie per la visione.